Ciao e benvenuto nel corso di italiano C1 del Centro Universitario dei Diomas Digitali a Distancia dell'UNED. In questo corso C1, seguendo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, svilupperai un dominio operativo efficace, comprendendo discorsi esterni di ogni tipo, programmi di televisione e film, articoli e libri, apprezzandone le distinzioni stilistiche. Sarai in grado di esprimerti con naturalezza utilizzando il linguaggio con flessibilità ed efficacia, formulando e sviluppando idee e opinioni con precisione su temi complessi. Inoltre, potrai esprimerti correttamente in testi chiari e ben strutturati di ogni tipo, selezionando lo stile più adatto al tipo di testo al destinatario. In questo modo continuerai a sviluppare la tua comprensione, sia auditiva che di lettura, l'interazione orale e l'espressione scritta e orale. Questo corso online è organizzato attraverso due piattaforme, la piattaforma Icon e la piattaforma Alf. Attraverso i video informativi che troverai sulla piattaforma Alf, le guide allo studio e il resto dei documenti del corso, potrai familiarizzarti velocemente con il materiale didattico offerto, approfittando al massimo di questa opportunità per consolidare le tue conoscenze sull'italiano. Speriamo che questo corso ti aiuti a diventare un utente competente della lingua e ti incoraggi a perfezionare le tue conoscenze. Buon lavoro e in bocca al lupo!